Per un ottimale funzionamento del piano mobile ogni anno si dovrebbe cambiare il filtro in acciaio inox con del cartone filtrante all'interno, lo facciamo sia qui in officina che nelle nostre officine autorizzate più volte si cambia all'anno e più dura il piano mobile, l'olio è sempre più pulito, si scalda di meno e dura di più Grazie a tutti